musica 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 oh yeah bitch martial nuclear boom 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 bella la mia nemesi ragazzi l'ho ucciso 15 volte e lui mi ha ucciso 0 volte musica 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 allora ragazzi io vi spiego questo qui è un mio profilo privato il profilo simply power non è un profilo che faccio per chi mi segue eccetera eccetera come sapete sulla play ci sono solamente 2000 amici si possono avere io non posso accettare tutte le persone perché sarebbe un disagio solamente cercare un amico da invitare o cose del genere poi molta gente parteciperebbe alle partite sarebbe veramente un disagio e ovviamente io gioco in streaming e potrei anche non giocare in streaming e prepararmi tutti i gameplay con i miei amici o provare più e più volte un gameplay da registrare ma ovviamente io gioco con i subscriber che sono gli abbonati perché loro partecipano attivamente allo streaming diciamo finanziandolo se così si può dire abbonandosi avendo comunque l'app di power prima del nome sulla chat potendo utilizzare le modi con powerface su qualsiasi altra chat e in più ragazzi un'altra cosa è che loro partecipando attivamente sono le principali persone che contribuiscono allo streaming e alla riuscita di questo di questo canale twitch e quindi secondo me è un loro diritto che loro giochino e loro partecipano a ciò che loro supportano e che loro comunque sono le principali persone attive quindi diventa come una proprietà loro questo canale lo so poi se è chiaro il concetto bello sa che mi importava beh no è vero raga voi siete i primi che che supportate lo streaming lol te l'ho inculato malissimo eh ah surprise motherfucker nooo nooo 7-0 bello ragazzi bello a tutti bello a tutti i nuovi ragazzi che ci sono come ungue come ungue come ungue nooo sono morto al visat porco due non ci credo eh va bene perchè ho sprecato l'ondata di calore andando a sinistra ce l'ho dietro vi prego non riuscirò mai a fuggire ce l'ho tutti dietro olè power pro sopra no no ti prego no no vabbè col coltello ciao fammi fuggire fratello sto ninja del cazzo reset mamma mia la bellezza quanto scopi si no l'ammazzo io quello con il mio mitraglio no non l'ammazzo io giratevi giratevi ragazzo è uno middle l'ammazzo io qualcuno ha tirato il contrattacco per caso lo può stirare ah tiralo tiralo no dai eccolo lì col cecchino di campionata che sto a testito stanno tutti i camperati dietro eh o ti prego cosa fai ma perchè non gli spari ma perchè non gli sparavi oddio mi è arrivato col coltello ho stretto troppo le chiappe ho stretto stretto io per te già oddio oddio bella ragazzi bella a tutti questo qua non moriva sono bellissime le marshal a kimbo così ti senti un botto fare questo tipo boh 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 non lo so mi sento un po' da sin city quanti siamo in filibro? un botto si un botto siamo proprio tanti saremo quasi 500 ma siamo tutti 3 tac perchè ci abbiamo il tumore ci abbiamo 3 tac è per questo ci abbiamo le connessioni col tumore con l'HIV cazzo ok io ho un hater per roba oddio c'è il cecchino ammazzate ammazzate un grego una pappa una sopra c'è un hater pure io uno passo da sotto uno sotto lo prendo se sale muovo salis la mazzi io sopra se mi interessa la posso ammazzarla vai vai orco 2 sono quasi morto per fare il regolo oggi c'è anche quello che fa la dam è anche la pottura si 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 Eeeeeeeeeeeh Che la leader? Eeeeeeeh Maaaaaan Eeeeeeeh Maaaaaan Oh no dai Eeeeeeeh Ma Attacco Uno sopra Tell us dead Good god Let me give you my life Pammao Nooo Chi è invaso Lurity l'ammazzio a sinistra, l'ammazzio a sinistra qualcuno mi spara da dietro pure deathless death good god let me give you my life bam bam qualcuno regali dobbiamo lasciare una bandiera regali ha un visat mamma mia l'ho visto grande ho mai dato pure l'arma dov'è la gente? sono sopra li vado a prendere io non è vero ah ma avete invaso mortacci vostra take me to surprise mother fucker c'è una k 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 è sopra e sotto uno è sopra devo scappare grazie io sto stancabile tanto regalo dobbiamo prendere via ve lo dico non ci credo stavo qui io non ho colpi io non ho colpi di niente lo uccido io con la sua non ho colpi di niente merda no regalo no regalo no regalo ma guarda questo cagolo no dai ma ci sono quelli con cecchini di campfire che lo stanno no regalo un visat dai non ci credo fin i colpi per tutto io vabbè c'è uno dietro ho fin i colpi no vabbè non so cosa fare sto in cima c'ho solo il pompa non ci credo fin i colpi di tutto aspetta attento dove sono le munizioni ecco ecco c'ho solo due colpi vieni sopra vieni sopra vieni sopra vieni sopra che non ci fisi sei un grande frate sei un grande frate non ci sono colpi non ci sono colpi niente niente è ritornato uno che c'ha colpi mi sa sempre scopra non so dove stanno i cadaveri no non ci sono proiettili c'ha il dig no perché c'avrei pure te maschera tattica cioè se no ma perché la gente campera sulle casette mi sta laggando tutto mi sono crashato non è vero no dietro madonna mamma mia io sto quasi la nuca raga no c'ho sopra nucleare let's go baby big the shit oh mazzalo oh ahhh mi sta allagata attacco ma dai io ho diventato un cuglio con una granata nuclea ragazzi eh 65 io ho 150 io ce l'ho già all'altra pure io Sì 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 Wow Cosa 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 No, 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 no...